è la intro questa, la intro questa bentornati sul mio canale ci troviamo in compagnia del buon Daniel Salteo dove andiamo? dove andremo? dove stiamo salendo? con molta fatica intanto facciamo vedere il bellissimo panorama c'è buon profumo senti gli uccellini? perfetto, perfetto non è male, non è solire così no, guarda là le nostre bici 7.000 euro a presa come il processo come il processo eccolo là l'orcio come comportarsi in caso di aggressione mantenere un atteggiamento passivo mi raccomando sta lì così bene, eccoci qua Dolomiti, Paganella e il bike park non mi ricordo via via c'è via stavo lottando di fare l'arancia dopo l'arancia dopo dopo facciamo un bel fatto adesso c'è un obiettivo la caccia all'eprotto lui è l'eprotto e io invece il cacciador ma l'eprotto al va adesso gli lasciamo un po' di distanza non mi raccomando non mi raccomando non mi raccomando è un obiettivo è pronto è pronto a correre allora giungo solo quando si ferma vado? vai 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 non mi raccomando vai vai va è una roba è una roba è un attimo è un attimo è un attimo è un attimo Musica Oh i salti non sono ancora buono Musica Ah ok Grazie No Musica 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 E' un gioco, è già fuso cadurante. Direttiamo lo stesso, ma anche se l'eproto non c'è. E' un gioco, è un gioco. 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 E' un gioco. E' un gioco. E' un gioco. E' un gioco, è un gioco. E' un gioco. E' un gioco, è un gioco. E' 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 un gioco. spaccato qualcosa non mi va ancora bene non capivo quando finivo mi sono fermato ho fatto il colato? è tutto questo? oh manini dai dai qui quante bestemmiette? guarda come vanno sono tutti i pro guarda come vanno non so si rende conto ma è così 2 metri e 40 2 metri e mezzo mai è partito ass il dolomitti del brenta laggiù in fondo eccoci qua alla fine della prima giornata cotti siamo cotti siamo belli stanchi provati ma contenti contenti molto felici assolutamente soprattutto l'ultima discesa chiudere così fa sempre piacere con un bel rip spray e bello croccante oggi chiudiamo e ci salutiamo ciao ciao ciao